Questo sarebbe il finale, ma a teatro nulla è come sempre. I buschieri siamo noi, dite così che ci sei mai. L'alberdono è il mondo più precioso e tu lo sai. Uno spettacolo nuovo, un finale travolgente e mai raccontato, in scena nei migliori teatri italiani. La leggenda di Belle la bestia, il musical. Grazie.